la votazione il senato non approva 6.38 parere contraria relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione il senato non approva 6.39 parere contraria relatore governo dichiaro aperta la votazione dichiaro chiusa la votazione 6.40 parere contraria relatore governo dichiaro aperta la votazione presidente chiusa la votazione però le chiederei una verifica mi perdoni sa non non vogliamo sempre sottolineare questa cosa però il senatore sposetti da quanto vedo dal dal quadro sta votando ma non lo vedo in aula dietro la borsa lì in alto ok dov'è però il tabellone allora prego i segretari il tabellone mi sembra illuminato adesso non vorrei dire adesso però c'è la luce qui non vedo la luce perché c'è la borsa ecco grazie ed almeno una ventina di votazioni che stavo cercando di capire perché succedeva questa cosa c'era una borsa davanti grazie allora annulliamo la votazione grazie grazie